e mentre stiamo qui ci guardiamo un altro filmato di carletto life alle prese con la nonna e poi in giro a teatro all'aperto con il nonno buona visione ma che spettacolo qua è durla dietro io stasera ci sarò la presaola comunque a proposito di mangiare tenetevi pronti perché ci sarà una box di Pasqua quindi sto ancora finendo di selezionare gli ultimi prodotti da inserire e vi arriveranno super super buoni a casa vostra e voi altri non siete un cazzo bello di Roma non siedi come picchia voi che te la smette da andare sul tapirulano capito? sul tapinarolo sul tapinarolo la recchiamo al tapinarolo e te la smette da andare sul tapirulano perché dopo a te che te frega non da fermo coccodrillo ma invece il 91esimo sembrava finita invece scrocchella ha colpito ancora eccolo ma te sciotti dico io guarda come scrocca eccolo scrocchella dei scrocchibus prendetene tutti come è? no io no guardo come è? come è? è sempre malissimo come si è comportato? è malissimo è bello meno da tutti come al solito scrocchia la porchetta scrocchia la porchetta fa casino lui che è? va a vedere amme guarda là guarda là scrocchella grazie a tutti